Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars Nel video di oggi vediamo un nuovo strumento molto interessante che è un calcolatore di punti stellari Voi gli dite quante coppie hanno i vostri brawler e lui vi dice quanti punti stellari potreste ottenere se la season finisse in questo esatto momento Ovviamente il link è in descrizione e colgo subito l'occasione per ricordarvi che questo video è realizzato in collaborazione per la seconda volta con Brawl Stars Italia Un sito che si occupa di produrre articoli di argomenti interessanti come questo qui ragazzi Ovviamente il sito in questione sta facendo la stessa cosa, sta portando alcuni dei nostri contenuti sotto forma di articolo Quindi dateci un'occhiata e non perdiamoci in gianchiere, passiamo subito alla schermata di game Siamo in compagnia del dottor Nick e dell'ingegner Flotta, buonasera dottori Ormai nei video in cui ci sono delle curiosità porto voi Sì Cos'è sì? Sì non è un saluto Molto brevemente come funzionano di base i punti stellari ragazzi Se voi pigliate un qualsiasi brawler e andate a pigiare sul rank Avete questa tabellina qua che tra l'altro io mi ero anche dimenticato che esistesse, me l'ha ricordato Flotta poco fa Che praticamente vi dice a seconda di quante coppe avete fatto quanti punti stellari vi spettano Cioè non c'è un numero di punti stellari specifico per ogni numero specifico di coppe Ma ogni multiplo di 50 andrete a totalizzare un determinato scaglione ok? Quindi praticamente si parte a 70 punti, 120, 160, 200, 220, 240, 60, 80, 300 E da lì in poi 320, 340 ragazzi Chi più ne ha più ne mette Se si supera, cioè se si raggiunge il rank 35 Si fanno 420 punti Ma in realtà non è finita lì ragazzi Perché se andate oltre ancora il rank 35 Potete fare 440, 460, 480 Se superate i 1400 trofei su un brawler È infattibile, lo so, però comunque sia È una particolarità che io onestamente noto solamente ora Questo è il sito e molto semplicemente c'è questa tabella qua ragazzi Adesso per fare una prova inseriamo 600 come valore sotto tutti quanti i brawler Quindi 600 coppe è un numero che si può raggiungere tranquillamente Ovviamente se non avete un brawler vi basta lasciare libera la casella ragazzi Non è che dovete per forza averli tutti Ok ragazzi siamo arrivati all'ultimo Come vedete mi dà un totale che è 3720 Se inserisco 600 In teoria ecco si aggiorna e diventa 3840 Quindi portando tutti i brawler sulle 600 coppe Si ottengono già un 4000 punti stellari Da questo possiamo facilmente dedurre che è più importante Rancare tanti brawler piuttosto che rancarne pochi tanto Professor Ferre colpisce ancora ne? Ok Allora andiamo a farci un paio di partite insieme Allora Brock, Pam e Rico Allora ragazzi Nick fammi giocare a sinistra Scusami eh È che devo infilarmi qua Ok Devo passare di qua zi Non vedere doppi sensi dove non ci sono Perché in questa parte qua Con rosa dovrei spaccare E morire Dovei spaccarmi io proprio Ok Eh Brock si è caricato la ulti Rompe tutto No ho sbagliato Oh Oppa la la Oppa la la Oppa la lì Bella per Rico No non è ancora oggi Potresti dirlo Bella Dai Beccane due Beccane due Beccane uno Beccane meno uno Ok No va bene Va bene Perché c'è quella Piena di piazza Mi è arrivata una Una Notifica da ebay In registrazione zi Ok Ebay che mi consiglia Robe strane Inconcepibili Ok vai No sto scherzando In realtà Non so cosa mi notifica Tutti i giorni Grazie per la donation Carissimo Bella Chiudiamo sta partita Nick pigliati una gem Vai a casa Per favore Ok campione Carl is my name Ah aspetta che si chiama Flotta Non si chiama Nick Ok Si chiama ciuffo Buona lì Chiudiamola Chiudiamola Perfetto ragazzi Buonissima Buonissima Ragazzi Si è abbonato Flotta durante il video No No words Allora ragazzi Visto che mi ha comprato Partiamo da flotta Vai Ok Allora flotta Se dovesse finire la season adesso Otterresti la bellezza Di 2110 punti Oh no male Hai detto Croo Ti ho visto Hai detto Hai detto Croo No Hai detto Croo Ok ragazzi Bibi Sceglie Tara No a fine Croo è fortissimo In sta mappa Ti spoilero tutti i nemici Comunque Guarda che forte Ci sta Si si è forte Perché io non le faccio Con le farfaglie Vabbè Li spoileriamo Meglio Ma è abbastanza Non sei salito Non sei salito moltissimo Ok Dai muore Ci Tara Allora ragazzi Quella Tara Che infame Bravo Nick Eh zi L'hai tavola Una volta che la becco Non è che ci posso far tanto Se non muore Allora Allora All jump Volendo Vieni Passamela Nick Ti faccio l'azione personale Non sei capace Vedi Vada vada Non sono capace Ho schivato il grab di Tara Allora zi Poi dopo Poi dopo ti insegno No No Dai zi Che se non mi beccava Con quella prima mazzata Andavo a far goal easy Ok Devono andarci a beccare La zia Penso che bb veloce Ok Bella Bella Grazie Va bene Mi fa piacere Non vorrei mica Andare a mangiare Spero Ci hanno fatto pure goal Nicky Ok Bella per quella Shelly Buona Bella Tac Oppala Quello è scasso Quello è scasso Ma hai fatto un tiro in porta Cosa c'è Ma che buono è ruota Ma si Con la porta tutta chiusa Ancora Ha fatto 6 5 6 5 6 5 6 5 1 6 5 0 6 4 3 6 6 6 3 2 6 5 Ti interessa sapere Anche quanti punti Stellari hai O ci abbandoni così No 4.320 Puppa Ok Il Nicky Ci ha appena abbandonato E comunque Il suo punteggio è 4.320 Ragazzi Quindi Già finendo la season qua Avrebbe un bel po' di punti Ma ci sta Perché lui Giova un pazzo Ok ragazzi L'ultima partita In duo Con Sandy E Lyons Ok Ci andiamo a tirar giù Subito questa cassettina Vediamo se a destra Non arriva nessuno Flotta C'è un'altra cassa Dammi una mano Per la copertura Ok No 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 Vai pure Che dato qua Non c'è nessuno È libero Ok Via Ok Mi dimentico sempre Perché Sandy Ci mette un po' A ricaricarsi i colpi Non ha una velocità Di ricarica molto alta Vedo stare attento A non sprecarli Ok Sì non sprecarli Devo comunque stanare Sto Max Cosa facciamo? Ce lo mangiamo vivo? Dovrei fare Circa 1.500 Quindi 4.500 Vi danno Ancora una hit Ok Ho notato che ce l'aveva un po' con me Però ce l'avevamo anche 7 power up A testa Quindi Uuu Da lì No No Siamo in file Via Ok Se ci butto una ulti in mezzo Controllo tutto il centro map Poi quello qua Tanto abbiamo vinto Ne abbiamo 9 No Ne abbiamo ancora vinto Zii Mi spiace per te Mi spiace di riderti Ma è bello? Mister Abbiamo vinto Capisco Dipendili Dipendili Ragazzi Grazie Ah scusa Scusami zii Eh sono andato un po' troppo sulla difensiva Forse in effetti Vabbè Potrei vincere in effetti ora No Se hai tento che ne sono 15 No Adesso è veramente difficile con 17 Perché porta pure sfiga Aspetta che ci provo Eh Non riesco Adesso potresti fare un scemo Un po' c'è che perdere veramente Zii No Oh Oh Bravo eh Lottevole 504 504 506 506 507 500 509 555 1 2 3 4 5 6 7 500 E 803 803 Quindi praticamente Ovviamente in questo momento ragazzi Quello col brawler più alto di coppe Sono io Anche se abbiamo visto poco fa Anche se abbiamo visto poco fa che non serve assolutamente a nulla avere un brawler alto Ma è meglio averne tanti Un po' meno alti Vabbè In totale Grazie mille per la donation boss Eh 1040 punti Quello con meno punti Sono quello col brawler più alto Ma quello che farebbe meno punti Va bene Lo accetto Insomma Nick ci ha abbandonato Ma ci abbandona anche il buon flottone Noi siamo giunti al termine Come al solito vi ricordo ragazzi Inserite il codice FR qua in fondo allo shop Per supportare il canale E i contenuti che appunto porto su di esso Vi chiedo come sempre un bel pulcino in su Se il video vi è piaciuto E se insomma vi va di provare questa cosetta Fatemelo sapere anche con un commento Il vostro punteggio E ovviamente Iscrizione e campanellina delle notifiche Per restare aggiornati sui prossimi contenuti In descrizione tutti i social Un saluto a tutti ragazzi Ci si becca alla prossima E Ciao